La giornata dedicata all'assemblea separata di bilancio del presidio soci di Vercelli, sicuramente una giornata molto positiva, una giornata in cui siamo riusciti a presentare un bilancio di tenuto, un bilancio importante in questi anni e il piacere di poterlo presentare a dei soci che secondo me hanno apprezzato, hanno fatto delle domande interessanti e si sentono parte integrante della vita della nostra cooperativa. Quindi è una giornata, un pomeriggio che si conclude in maniera molto positiva. Attraverso il motore della convenienza che porta soci, clienti, prestatori, questa cooperativa, questa realtà è in grado di generare insieme un sistema efficiente di distribuzione e una forte capacità di innovazione, cioè offrire prodotti, servizi nuovi ai propri soci, di farlo in modo efficiente coniugando insieme una sostenibilità dal punto di vista ambientale, questa sede ne è anche un grande esempio, con una capacità di proiettarsi nel futuro. Quindi quella solidità tipica dei valori del mondo cooperativo non è una solidità ferma, ma è una solidità in movimento, è una solidità in grado di generare innovazione, sviluppo, potenzialità per il futuro. Grazie a Coppio tutto questo non sono solo parole, ma sono una realtà. Come amministrazione devo dire mi sento perfettamente in linea con quelli che sono i principi che ho sentito oggi, ma devo dire che ho sentito già negli anni scorsi, perché è da parecchi anni che partecipo a questa Assemblea dei Soci, il principio di solidarietà, di partecipazione, di volontà di relazionarsi col territorio e di partecipare a quelle che sono le iniziative, sono un'eccellenza secondo me per questa cooperativa. Come amministrazione comunale abbiamo chiesto dei fondi per fare un recupero di una parte dell'area ex Montefibre che in continuità con le attività realizzate della Nova Copp permetteranno di ottenere un'area della nostra città che avrà come caratteristiche sempre più verde, quindi con tante piantumazioni, con una mobilità sostenibile, quell'attenzione particolare e anche la vivibilità degli spazi cittadini, questo ci troviamo perfettamente in linea a quelle che sono anche le posizioni di Nova Copp. È stata una giornata fatta di risultati, di numeri, una cooperativa che vede avanti, vede al futuro, come diceva il nostro Vicepresidente, i posti di lavoro, le conferme che abbiamo avuto in questo anno sono state veramente veramente positive. Le parole chiave del futuro sono innovazione e sviluppo. Il logo di quest'anno richiama sicuramente delle parole importanti che noi teniamo sempre a mente per esprimere i valori della cooperativa, solidità, convenienza, innovazione, efficienza e sicuramente importante anche lo sviluppo e nel territorio di Vercelli sicuramente riusciamo ad esprimere tutti questi contenuti. Grazie a tutti.